L'argomento è di grande attualità, la prevenzione antisismica e la cultura della prevenzione antisismica. Quali iniziative avete lanciato? L'argomento è sempre di estrema attualità perché siamo in Sicilia, che è una regione tra quelle a più alto rischio sismico in Italia e in Europa. La nostra idea come Radio Zammu è stata quella di creare un programma radiofonico, quindi anche innovando i contenuti e gli obiettivi di questo media per fare informazione e soprattutto diffondere la cultura della prevenzione intanto fra i studenti universitari che sono i primi fruitori ma anche i primi attori di Radio Zammu, che è la Radio dell'Università di Catania ed è un laboratorio. Abbiamo pensato che partendo da determinate riflessioni e determinati temi, ricordiamo anche che Catania è una tra le città più studiate d'Italia da questo punto di vista, facendo parlare gli studiosi, gli esperti, quindi un geofisico, un vulcanologo, uno studioso di scienza delle costruzioni, gli esperti della protezione civile, potessimo cominciare a dare quelle informazioni basilari di conoscenza ma anche di pratica e di buone prassi che possono servire a chi abita in un territorio come il nostro per mettersi, non diciamo mettersi al sicuro, ma sicuramente per riuscire a convivere con una situazione di alto rischio quale è la nostra. Così è nata la trasmissione che si chiama, anzi il ciclo di trasmissione che si chiama Terremoto il giorno prima, proprio perché parla di prevenzione, il cui obiettivo è quello anche di parlarne sempre prima e non soltanto, come spesso accade per i mass media, dopo che le tragedie avvengono. È fondamentale, come avviene da anni in Giappone, in California e in tantissimi altri territori, imparare a fare i conti con questa realtà senza allarmismi e senza fatalismi che spingono peraltro a rimuovere il problema. Come vincere la cultura del fatalismo? Beh, informandosi, conoscendo, il nostro è un paese, soprattutto al sud, dove si rimuove perché si ha paura e perché si preferisce scongiurare, fare gli scongiuri e addirittura tacciare chi parla di questi rischi di essere un po' iettatore. Sarebbe in realtà da subiti, perché poi quando queste tragedie avvengono e proprio in questi giorni c'è un importante anniversario del grande terremoto del 1693 che sconvolse tutta la Sicilia orientale. Quindi sono cose con cui dobbiamo fare i conti perché dipendono dalla natura e dipendono dalle caratteristiche del nostro territorio. È importante imparare, conoscere, diffondere la cultura sin da bambini, quindi sin dalle scuole. Per fortuna oggi molte scuole fanno le esercitazioni e aiutano i nostri figli a capire come mettersi in salvo. Probabilmente ne sanno anche più di noi, noi cittadini normali. E poi fare in modo che i politici ma anche i tecnici si ricordino di utilizzare quegli accorgimenti, quelle conoscenze e le applicazioni delle nuove tecnologie per poter costruire città più sicure, sia dal punto di vista degli edilizzi sia dal punto di vista delle scelte urbanistiche.